Ansa Voice La contrapposizione fra democrazie e autocrazie in un mondo in cui cambiano velocemente gli equilibri geopolitici appare plasticamente in questo 2024, l'anno elettorale in cui due miliardi di persone andranno a votare in moltissimi paesi. Si voterà per il Parlamento europeo a giugno negli Stati Uniti il 5 novembre, in India la più grande democrazia del mondo, in diversi paesi europei come Belgio, Austria e Portogallo. Si è votata Taiwan e si voterà in Messico con una congiuntura che non ha precedenti e con cittadini pronti ad andare alle urne in tutti gli angoli del mondo. Ma questo incredibile anno elettorale mette in evidenza un punto soltanto apparentemente banale, ma che invece conferma i grandi cambiamenti geopolitici ai quali stiamo assistendo dalla guerra in Ucraina in poi. Il mondo che sempre di più si divide come in una nuova forma di guerra fredda fra democrazie e autocrazie, si divide fra i paesi che hanno libere elezioni e quelli in cui le elezioni sono molto lontane da uno standard minimo di democrazia. Tra quei paesi dove si svolgono regolari campagne elettorali e dove c'è una libera stampa e dove i cittadini possono formarsi una propria opinione. E quei paesi invece in cui la libertà di espressione e il rispetto dei diritti umani e civili non sono garantiti e dove gli oppositori finiscono spesso in galera o al cimitero. Il 17 marzo si voterà in Russia e tutti sanno già che Putin sarà confermato al potere con percentuali che una volta chiamavamo bulgare ma che oggi possiamo chiamare semplicemente russe. L'opposizione è inesistente, la tragica fine di Alexei Navalny ce lo ricorda ogni giorno. Ma vale la pena ricordare anche che Boris Nadezin, candidato che si opponeva a Putin, ha visto la sua candidatura bocciata dalla Commissione elettorale russa per presunte irregolarità nelle firme raccolte. In Bielorussia si sono inventati un candidato virtuale per le elezioni legislative nel paese dove Aleksandr Lukashenko non ha nessun rivale e che ha già annunciato che si ripresenterà per un settimo mandato, avete sentito bene il settimo mandato, alle presidenziali del prossimo anno. Yash Gaspadar è il candidato virtuale che si oppone a Lukashenko, è giovane, ha un programma europeista e risponde alle domande degli elettori. Peccato che non esiste e che sia stato creato con l'intelligenza artificiale perché una vera opposizione non è possibile in un paese dove, secondo l'Unione Europea, i nuovi parlamentari non hanno legittimità democratica. Si voterà anche in Iran dove l'alternanza tra i conservatori e i cosiddetti riformisti non ha mai realmente migliorato la situazione delle donne, dove i giovani non possono scendere in piazza, dove il dissenso è colpito sistematicamente e dove alcune giovani donne che hanno osato ribellarsi al velo islamico sono state frustate e uccise. Mascia è il simbolo di tutte loro, ma sono tantissime. In questo anno elettorale 2024, insomma, appare con grande chiarezza quella faglia che divide il mondo tra democrazie e autocrazie. Si riflette la costruzione di un nuovo ordine mondiale, o forse disordine mondiale, dove la Cina, corteggiando il sud globale, sta cercando di costruire un sistema alternativo a quello occidentale, ad esempio allargando il gruppo dei BRICS e corteggiando paesi proprio come l'Iran. L'Occidente e l'Europa non sono certo perfetti. La burocrazia di Bruxelles è a volte incomprensibile e le discussioni europee possono essere stucchevoli. Così come appare bizzarra la campagna elettorale americana, un paese dinamico come gli Stati Uniti non è in grado di presentare due candidati diversi dalle elezioni di quattro anni fa e nel frattempo Biden e Trump hanno entrambi intorno agli 80 anni. Il Partito Repubblicano sembra aver perso la memoria degli antichi equilibri e si è spostato verso la destra estrema con un candidato alle presidenziali in seguito dai processi e dalla giustizia. E il Partito Democratico paralizzato intorno a Biden è il simbolo della malattia della politica americana. I tempi di Kennedy, ma anche quelli di Obama, sono molto lontani. Ma c'è un punto. Gli elettori europei e quelli americani, quando a giugno e a novembre andranno alle urne, saranno pienamente liberi di scrivere sulla scheda elettorale il nome del candidato che avranno liberamente scelto.